Il contrabbando di sigarette in transito a Malpensa non è certo una novità, ma una quantità così ingente sequestrata nell'arco di una sola mattinata fa senz'altro notizia. La Guardia di Finanza ha infatti scoperto nei bagagli di 5 diversi passeggeri un totale di 200 kg di tabacco importato illecitamente. Le multe complessivamente sfiorano il milione di euro. I viaggiatori in questione sono due elettoni, un francese, un britannico e un angolano. Trasportavano complessivamente 900 stecche di sigarette per un totale di 200 kg. Per capire la proporzione dell'illecito in base al quale sono subito scattati denunce e sequestro, basti dire che la quantità massima di tabacco consentita dalle leggi doganali è di 200 grammi pari a una sola stecca e che la multa per ogni sigaretta in più è di 5 euro a grammo. Poiché una sigaretta pesa un grammo, il calcolo è presto fatto un milione di euro di sanzione a carico di tutti e cinque.